Sto trascrivendo le temperature del giorno. Noi di Ampas in Sicilia siamo impegnati in inizio mese di marzo con le nostre 38 pubbliche assistenze a supporto della popolazione e dopo il decreto io resto a casa. In particolare i servizi che svolgiamo giornalmente sono spesa mica, taxi farmaco, disinfezione di strade e in alcune pubbliche assistenze la consegna di pasti al domicilio alla persona meno ambienti. Stiamo facendo assistenza alla popolazione, nello specifico stiamo portando i farmaci e gli over 65 che non hanno familiari e tutte le persone in quarantena. In questo momento abbiamo portato i vestiti e le medicine di persone che sono ricoverate in ospedale perché trovate positive e quindi avevano bisogno del cambio. Abbiamo portati qui all'ente corpo e l'ente corpo quindi provvederà a farli avere in ospedale. Allora intanto ne serve il taxi farmaco e la spesa. In tutta la Sicilia sono partite le convenzioni con le catene alimentari di grossa distribuzione DECO, CRAI ed Eurospin. La disinfezione delle strade consiste nello spruzzare con i moduli adingenti o dei prodotti forniti dalle aziende sanitarie provinciali proprio per la disinfezione delle strade o nei posti di maggior accumulo e affianza. Grazie a tutti.